Un consiglio comunale straordinario sulla sanità oggi, chiesto dalle minoranze al presidente Roberto Sant'Angelo che ha colto la richiesta. Tutti sugli scranni a parlare delle difficili condizioni del nosocomio aquilano, più volte denunciate in questi mesi. Pronto soccorso sotto accusa negli ultimi giorni da parte degli utenti, anche dal gruppo del passo possibile, ma la ASLA ha già replicato che va tutto bene. Il pronto soccorso funziona, ma le difficoltà vengono riscontrate ogni giorno a partire dai posti letto che mancano passando per le liste di attesa. Ora ciò che si vuole è un impegno del Consiglio per difendere l'ospedale e per il riconoscimento del DEA di secondo livello. La minoranza ha presentato un apposito ordine del giorno. Innanzitutto il ruolo del comune, del sindaco, del consiglio comunale che in questi mesi purtroppo non ha esercitato le funzioni, il potere che ha per far sì che le iniziative della sanità aquilana fossero iniziative puntuali e quindi siamo nelle mani del direttore generale o nelle mani della regione che guarda alla distribuzione dei fondi con la schizofrenia solita della costa che sacrifica le aree interne. Quindi vogliamo intanto dei luoghi di partecipazione, la consulta della sanità, vogliamo il comitato ristretto dei sindaci che si convochi frequentemente almeno una volta al mese e poi il merito più assunzioni, più personale e più strumenti per gli operatori, intervenire sul 118, intervenire sul pronto soccorso che è un disastro, ne vogliamo parlare con gli operatori infatti, il consiglio comunale è straordinario, aperto. Ma il tema è caro anche alla maggioranza, il consigliere comunale Fabio Frullo ha un passato da sindacalista nella sanità e i problemi li conosce bene, le segnalazioni ormai sono all'ordine del giorno, molti raccontano che mancano persino medicine e materiali, la ASLA si è sempre difesa, sostenendo la sua posizione e dicendo che fa il massimo, ma le opinioni degli utenti spesso non coincidono. I problemi c'erano e ci sono, nel senso che noi registriamo una condizione particolarmente dura, mancanza di posti letto, tante ore passate al pronto soccorso, carenza oggettiva di personale, medici, infermieri e osso e inevitabilmente il consiglio comunale ha il dovere di fare chiarezza su questi aspetti per cercare di capire e cercare se ci sono le condizioni di trovare una soluzione.